Seconda settimana consecutiva di gare per il Moto Mondiale, si siamo trasferiti ad Aragon nel circuito del Motorland che ospiterà come ha fatto la Superbike a suo tempo due gare consecutive, in questo caso parliamo del Gran Premio di Aragon, settimana prossima parleremo del Gran Premio del Teruel che per quanto riguarda la MotoGP ha regalato delle sorprese pazzesche perché il podio è fatto da due Suzuki e una Honda, le KTM, le Ducati, After The Music, ma celebriamo la vittoria di Alex Rins nella gara di domenica. Voi vedrete il video lunedì alle 14, sto registrando comunque domenica sera. In ogni caso il podio ha del clamoroso perché come vediamo dall'immagine i due contender della Suzuki sono primo e terzo con Rins e Mir in mezzo, Alex Marquez che francamente sorprende sempre di più e purtroppo mi tocca ancora una volta dargli credito nonostante non sia partito con le migliori premesse. È stata una gara veramente stranissima che le Yamaha sembravano poter monopolizzare in qualificazione considerato che Quartarro, Vignales, Morbidelli erano tutte delle primissime posizioni, poi soprattutto il francese hanno un crollo mega galattico e finiscono anche loro After The Music. Vignales in qualche modo salva una top 10 e lascia uno spazio ai veri protagonisti di questa gara di Aragon che appunto sono state le due Suzuki e un Alex Marquez che dopo il podio di Le Mans ha fatto evidentemente click mentale e si riscopre non essere un pilota fermo nonostante avesse dimostrato l'esatto contrario fino a settimana scorsa. Addirittura le Suzuki ufficiali erano in testa con una doppietta con Rins davanti a Mir poi il passo mostruoso di Marquez Junior permette appunto al fratello di Mark che è assente di arrivare al secondo posto. Peraltro Marquez Junior rischiava anche di vincerla questa gara di Aragon e avrebbe continuato la tradizione della famiglia Marquez che da qualche anno regna ad Aragon ovvero circuito sinistrosso i Marquez vincono. Per fortuna Alex Marquez non è nientamente paragonabile a Mark e dunque ha fatto il secondo podio consecutivo. È una tripletta spagnola perché appunto Rins, Marquez e Mir sono spagnoli. Con questo podio peraltro abbiamo una Suzuki in testa al campionato del mondo MotoGP perché effettivamente Juan Mir approfitta dello scivolone pazzesco di Quartararo e si issa in testa al mondiale. È comunque un campionato del mondo MotoGP che vedremo con la classifica di Wikipedia inglese come al solito molto molto tirato perché con la dipartita tra virgolette di Quartararo ci sono diciamo ancora meno punti di distacco tra i primi piloti della classe. E li vediamo perché appunto tra Mir che è primo e Dovizioso che è quarto ci sono 15 punti anzi scusatemi 20 punti di distacco perché appunto 105 il Forlibese e 125 il pilota spagnolo che comunque ancora una volta dimostra di essere un pilota stracostante. Non si è ancora visto a memoria un pilota che non abbia mai vinto un mondiale senza vincere neanche una gara in ogni caso Mir al momento in testa al campionato del mondo quando mancano quattro gare alla fine. Il podio abbiamo detto tripletta spagnola con Alex Marquez secondo podio consecutivo Mir terzo le altre posizioni in realtà è un poker spagnolo mi correggo perché Vignales fa quarto salvando come dicevo prima una top 5. Quinta posizione per il pilota giapponese della anzi sì pilota giapponese della onda Takaki Nakagami che qui mi risulta sesto in realtà involata ha battuto Morbidelli che comunque finisce sesto a segno che la onda è in crescita in generale e lo vedremo anche più avanti. Settima posizione per Andrea Dovizioso protagonista di una grande incomprensione con Petrucci nella qualificazione che permetteva ad accedere ai migliori 12 per la pole position per di fatto non aver usufruito della scena di Petrucci un'incomprensione col suo compagno di squadra e anche il rammarico immagino di essere stato escluso dalla Q2 Dovizioso manda più o meno a quel paese il mondo intero scagli i guanti contro il muro per una esclusione di 15.000 esigmi che peraltro è venuta a carico di Jack Miller perché appunto il petto australiano è arrivato in Q2 a differenza di Dovizioso. La Ducati come gestione ha glissato evidentemente su questo argomento quando secondo me poteva far di più considerato che hai un pilota che si sta giocando il mondiale e sembra abbastanza strano che la Ducati remi contro Dovizioso. Diciamo che questa Q1 tra Dovizioso e Petrucci ha fatto intendere che sembra che un po' se ne freghino perché Dovizioso vada via un pochino invece dall'altra parte non si capisce che cacchio stiano facendo ma sappiamo che la Ducati fronte MotoGP ha problemi evidenti con la gestione dei piloti e nella chiusura dei rapporti a differenza come è successo in Superbike dove Chas Davis vincendo l'ultima gara di Estoril è stato salutato con un applauso e una standing ovation da parte del team Aruba Ducati. A proposito di Honda completiamo la top 10, ottavo Carl Crutchlow che si riscatta dopo l'ennesimo infortunio e ritiri che ha avuto in questa stagione e fa il piazzamento numero 3 della Honda in top 10 quindi grande prova del pilota inglese non a posizione per Jack Miller che partendo davanti poi è andato al gambero quindi indietro e chiude la top 10 Johan Zarco con la Ducati del team Avintia. Diciamo che in generale la Ducati su Aragon non era accreditata delle migliori credenziali. Dovizioso poteva far secondo me di più ma purtroppo compice una qualificazione di merda è partito tredicesimo e ha dovuto fare la solita gara di rimonta e col settimo posto ha un po' pezzato i danni 20 punti a 4 gara dalla fine non sono pochi non sono neanche tantissimi matematicamente il Forlivese è ancora in corsa certo settimana prossima si corre ancora qui e Dovizioso dovrebbe fare quel click in avanti certo se la squadra la ritassi un po' di più sarebbe meglio però è comprensibile anche il fatto che nel modo mondiale non ci sono gli ordini di scuderia come magari può essere in Formula 1. In ogni caso usciamo da questo gran premio di Aragon con Juan Mir leader del campionato del mondo al secondo anno di fatto in MotoGP il primo pieno considerato che l'anno scorso Mir di fatto ha saltato molte gare per infortunio e al primo anno vero insomma si è dimostrato un pilota veramente quadrato veramente sul pezzo scavalcando tra l'altro Alex Rins nelle gerarchie di casa Suzuki perché fino all'anno scorso era proprio Alex Rins il pilota di punta di Suzuki che invece si è ritrovato a inseguire indietro complice appunto l'esplosione di Mir e un pochino un rendimento altalenante almeno meno rispetto a Mir la Suzuki comunque avendo soltanto due moto per puntare su due piloti veramente fantastici e attenzione perché sembrano veramente le moto da battere insieme alla Honda di Marquez Junior che tutte le volte che lo denigro mi probabilmente mi sente e si offende e vuol dimostrare che in realtà il titolo del mondo motore non l'ha vinto per caso e non solo perché era l'unico pilota decente che poteva vincerlo e ha fatto il secondo podio consecutivo in ogni caso settimana prossima si corre ancora al Teruel sarà contemporanea con la Formula 1 e in quel caso sapete che i Racing Podcast vanno a priorità a Formula 1 per quanto sia il mondiale dei due assolutamente più chiuso rispetto alla MotoGP il rider del giorno mi duole dirlo che una volta lo devo dare ad Alex Marquez perché effettivamente se il podio di Le Mans poteva essere estemporaneo perché sul bagnato in condizioni particolari anche qui sull'asciutto ad Aragon dove già i Marquez vanno bene di loro insomma ha dimostrato che ci sa fare e attenzione perché vi ricordo che l'anno prossimo Alex Marquez non sarà su questa moto rimarrà sempre in onda ma farà un downgrade e andrà nella onda del Cicchinello al posto di Cratchlow secondo podio consecutivo per Alex Marquez che poteva anche vincerla però insomma effettivamente ha dimostrato che è tutto forché un pilota fermo e ripeto sta facendo ricredere anche il sottoscritto che non gli dava neanche un centesimo prima che partisse il campionato del mondo la delusione del giorno è comunque quello che era il leader del mondiale fino a questo gran premio di Aragon ovvero Fabio Quartarro che anche lui è un pilota clamorosamente altalenante nel senso che diciamo Barcellona e nelle due gare di Jerez sembrava un semidio, un mostro nella gara di casa ha fatto pietà, nono parlando dalla pole position e qui lo stesso copione va detto che in realtà Quartarro era mezzo infortunato e dunque probabilmente anche per il dolore ha dovuto alzare il passo peccato che a un certo punto girasse sul passo di Stefan Bradel che è il terzo pilota della Honda sul passo di Titone Rabat che è lì solo per far rumore di fatto in MotoGP e sul passo degli ultimi Bradley Smith per dirne uno quindi effettivamente una cosa del genere non l'ho mai vista tra l'altro Quartarro per la seconda volta consecutiva partiva dalla pole position da un pilota che sul giro secco è un pilota mostruoso perché ha fatto già 4 pole position in questo campionato a lui va la delusione del giorno anche perché insomma in seguire è sempre più difficile che gestire un campionato che l'aveva visto lanciatissimo nelle primissime due competizioni dimostra anche una volta questa MotoGP comunque che senza Mark Marquez c'è un equilibrio pazzesco perché Rins è l'ennesimo vincitore diverso in una competizione perché a parte Quartarro che ha vinto tre gare tutti gli altri hanno vinto almeno una gara hanno vinto veramente persone delle più disparate Oliveira, ha vinto Binder, ha vinto Petrucci a caso in Francia insomma cose leggendarie tu vincono tutti, vincono praticamente tranne praticamente il mio pupillo Andrea Dovizioso che ha una sfiga bestiale un po' per colpe sue un po' perché la squadra non l'aiuta un po' perché fa delle qualifiche veramente di merda insomma ci manca che torna la vittoria Valentino Rossi quando si sarà ripreso dal Covid e per questo 2020 li abbiamo praticamente viste tutte per quanto la vittoria di Rossi a 41 anni quanti sono è ampiamente poetico e leggendario comunque settimana prossima ripartirà il campionato MotoGP con Mir in testa, un campionato molto aperto così come è molto aperto il campionato Moto2 che si è totalmente riaperto perché il Team Sky praticamente la butta via al Gran Premo di Aragon Sam Blows ringrazia e saluta la compagnia e vince la seconda gara consecutiva Sam Blows, fatto il gemello di Alex che corre in superbike è un pilota che è in crescita tantissimo è un veterano, se così possiamo chiamarlo della Moto2 ha fatto quattro podi consecutivi ed è sempre migliorato terzo, secondo e due primi posti lo fanno di fatto rimettere in corsa per il titolo del mondo Moto2 2020 ha soli due punti di distacco del mio idolo assoluto il vestito di Rimini Enea Bastenini che col secondo posto ai danni di Jorge Martin è primo in campionato a 155 punti con il 153 di Sam Blows i veri delusi in realtà sono i due piloti che inquadro qui Luca Marini e Marco Bezzecchi perché potevano fare una bellissima gara forse puntare non dico alla doppietta ma quantomeno a due podi facili Bezzecchi era addirittura primo a un certo punto davanti a Sam Blows e a un certo punto cade in curva 1 una curva maledetta per i piloti italiani perché anche Fabio Di Gian Antonio purtroppo cade nello stesso punto e Bezzecchi butta via una vittoria che era ampiamente meritata e avrebbe ancora di più accorciato un campionato del mondo che adesso vedi i primi 4 piloti in 25 punti si va dai 130 di Bezzecchi ai 155 del bestia di Rimini Enea Bastenini Marini ha una caduta inizio gara e anche qui è un colpo pesantissimo per il campionato del mondo perché da primo il fratellato di Valentino Rossi si ritrova terzo per fortuna per tutti c'è anche qui la gara della settimana prossima che sarà sempre ad Aragon per il Gran Premio del Terruel discorso diverso invece va fatto per una Moto3 che è meno spettacolare al momento delle altre due categorie Albert Arenas è ancora il leader del campionato del mondo e anche qui celebriamo la vittoria di uno spagnolo quindi anche per Masia così come per Rins ha suonato la marcia reale nazionale spagnolo per Sam Blows ovviamente ha suonato God Save the Queen è un podio incredibile perché appunto vediamo Darren Bender che fa ancora una volta un podio il fratello di Brad fa seconda posizione e poteva vincerla in questa circostanza il piatto sudafricano festeggiamo il primo podio in carriera per Raul Fernandez che è uno dei miei piloti preferiti onestamente di questa Moto3 un pilota che a me piace tantissimo l'avevo visto al Saxe Ring nel 2018 fare una rimonta pazzesca del 25esimo nono e qui fa terzo partendo dalla pole position segno che questo è un pilota veramente a tenere d'occhio attenzione a lui per il prossimo anno il migliore degli italiani per quanto riguarda la Moto3 Ero Manofenati che finisce quarto in questa gara mancava Tony Arbolino in quanto ha avuto un contatto con un positivo al coronavirus nel aereo che lo portava penso al Gran Premio e per protocollo è rimasto a casa per via in realtà credo degli ordini del governo italiano e non per la Dorna nonostante i tamponi negativi il fatto sta che Arbolino tornerà nel Gran Premio del Terroel e questo purtroppo è un colpo importante per il campionato perché Arbolino era un altro dei piloti in forma e poteva secondo me fare bene ad Aragon il fatto sta che tra una settimana si andrà con questo mondiale Moto3 ancora una volta anche abbiamo del Terroel con Arenas 1 144 punti con Ayogura 2 ma il giapponese è veramente in down mentre gli italiani Arbolino e Vietti in particolare sono più lanciati così come lo scozzese John McPhee che si è riscattato e ha fatto un ottimo quinto a posto in ogni caso fatemi sapere cosa sarebbero state di tutte queste gare delle categorie del Moto Mondiale vi lascio con la classifica della MotoGP che è un campionato sempre più corto sempre più avvicente con 4 gare alla fine il podio è una tripletta spagnola perché Rins Marquez e Mir completano il podio di Aragon il saluto da parte di MetaTorger ci vediamo domani per presentare la World Series di MLB quindi il meraviglioso gioco del baseball americano di Aragon di Aragon di Aragon Grazie.